Ciao e bentornati su Annessessari Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Worshippers. Messaggio di servizio. Questo è un accesso anticipato, pertanto tutto quello che vi dico si basa sulla mia versione del gioco, su quella che ho provato io. Tutto potrebbe cambiare, il bello potrebbe diventare brutto, il brutto potrebbe diventare bellissimo. Tenetelo in considerazione. Worshippers è un gioco che mischia, è un gioco di carte con un gioco alla Civilization. Cerco di spiegarmi in maniera semplice, nonostante da spiegare sia complicatissimo da giocare molto meno. Immaginate un gioco alla Civilization, ma quello che noi possiamo fare si divide in due categorie. La prima è utilizzare le cose che sono già sul campo, già la nostra civiltà ha già creato. Per esempio, le unità posso muovere, posso attaccare qualcuno, e questo è semplice. L'altra è utilizzare delle carte che io ho pescato utilizzando degli edifici che sono sul campo, nello specifico le nostre colonie generano le carte. Posso utilizzare queste carte per fare delle cose differenti, tipo creare dei nuovi edifici, delle nuove unità, equipaggiare le unità con degli oggetti. Essenzialmente, tutto quello che non è già sul campo, ma va creato, va aggiunto al campo, arriva da queste carte. Le carte si prendono da quelle che sono le nostre colonie, o le nostre città. Per spiegare alla Civilization, c'è un colono che va a fondo una colonia, e da lì generiamo le carte. Ogni colonia che abbiamo generato può supportare nella sua regione due edifici, e può generare una volta a turno una carta, scelta tra tre. Quindi, più colonie abbiamo, più possiamo spendere azioni per pescare, e più possiamo creare edifici che ci permettono di creare risorse per poi giocare le carte. E questo mi sembra lineare. In più, il combattimento avviene sempre con un sistema di carte, per cui noi abbiamo un'unità che sono una serie di carte, possiamo metterne giù soltanto alcune, che seguiranno le regole di ingaggio particolari, nel senso che, nel momento in cui tireremo giù più di un'unità, le unità range attaccheranno sempre l'unità più lontana che sia stata creata dal nemico, le unità melee sempre l'unità più vicina che sia stata attaccata dal nemico. E quindi dovremo andare a gestire questa cosa, oltre al fatto di poter ritirare un'unità, e poterla rideployare in un secondo momento all'interno del combattimento. Sembra complicatissimo, in realtà la meccanica è piuttosto semplice. Lo scopo del gioco è quello di fare nove missioni che ci vengono date, terminarle, per cui fare la missione finale. Le missioni vengono scelte all'interno di una costellazione, dove ci saranno una trentina di missioni, di varie difficoltà. Saremmo noi a scegliere quello che vogliamo affrontare o non affrontare, sapendo che ogni missione portata a termine ci sblocca delle carte in più da poter mettere in questo mazzo che possiamo poi andare a pescare durante le missioni. Allora, questo sistema delle missioni, cominciamo da questo e poi parliamo del sistema delle carte, questo sistema delle missioni è parecchio interessante, perché fa sì che, a differenza di quello che succede in, per esempio, Civilization, io non possa costruire un'armata invincibile e poi andare a fare gli ultimi turni noiosissimi in cui io ho già vinto e il computer non se ne è ancora accorto. Si tratta di nuove missioni in cui abbiamo degli obiettivi da fare entro un certo numero di turni con determinate azioni piuttosto diverse tra di loro, quindi dovremmo cercare di far crescere la nostra civiltà che parte sempre da zero in un tempo rapido, cerchiamo di fare quello che ci viene chiesto per poter ottenere i bonus che sono poi il mazzo di carte più varie con delle carte più o meno forti o più o meno varie che ci permette di andare a affrontare l'ultima missione. Il mazzo di carte poi possiamo andarlo a creare. Questo sistema è molto interessante perché dà una rigiocabilità, fa sì che, a differenza di quello che è, per esempio, Civilization, gli ultimi turni non siano turni in cui io ho già vinto, ho già perso, e basta, devo soltanto farlo capire al computer, e mantiene il divertimento del gioco sveglio per tutta la sua durata e questo mi è piaciuto molto. Il sistema delle carte è piuttosto interessante, è piuttosto interessante perché gestire le carte, cioè capire cosa prendere, capire cosa giocare, come spendere le proprie risorse, si tenderà sempre ad avere in mano più carte delle azioni che si possono fare, quindi avremo sempre la domanda cosa faccio adesso per poter poi fare delle cose differenti il prossimo turno. È interessante e secondo me merita di essere provato perché sotto c'è qualcosa, c'è una meccanica diversa da quella che si vede in questo tipo di giochi che sono spesso e volentieri soltanto una gestione ottimale delle risorse. I problemi di questo warship sono forse la prima missione che ha delle carte tutte piuttosto blande ed è un peccato perché voglio divertirmi già dalla prima, dopo la prima volta che l'ho fatta come tutorial, poi la prima non è di riscaldamento, voglio già divertirmi. Il fatto che non ci sia nessun link tra gli scenari se non il fatto che io modifico il mio mazzo di carte tra uno scenario e l'altro, forse mi sarebbe piaciuto di più un filo conduttore all'interno degli scenari che non li trasformasse veramente in scenari e basta completamente slegati l'uno dall'altro. Il fatto che la pesca delle carte sia fatta da un solo edificio che ci permette di scegliere tre carte tra cui pescare. Le tre carte, che possono essere di tre livelli differenti, che si sbloccano, giocando delle carte che sbloccano i livelli successivi, c'è tutto un sistema che non so da spiegarvi per non fare video di 4 ore e 20, questa scelta delle tre carte a volte è veramente penalizzante perché l'RNG a volte ci è avverso e abbiamo bisogno di un'unità e non ci esce l'unità, ci escono dei granai e dici, porca miseria, volevo proprio un'unità che ai miei utassi a menare questo mostro che sta per attaccarmi. L'ultima cosa che posso dire invece che non mi è piaciuto di questo Warshippers è che ci sono delle caselle, degli esagoni che sono esplorabili, quindi io ci arrivo sopra con la mia unità e parte l'esplorazione che può essere, trovi delle cose, c'è un combattimento, eccetera, eccetera. Il problema che ho avuto è che queste tile, queste caselle esplorabili non sono evidenziate in maniera chiara sulla mappa e quindi io ci vado sopra, devo andarci sopra per sapere se esplorabili o no. Avendo io soltanto un numero limitato di mosse a turno devo dire che questa cosa qui l'ho un po' patita. Avrei preferito che le cose esplorabili fossero indicate chiaramente in maniera che, ok, quello è una caverna, ci vado e esploro. Nel complesso, questo Warshippers, se non vi aspettate Civilization 7, è un giochino interessante perché mette delle meccaniche interessanti, le mette in un modo abbastanza accurato, abbastanza ben fatto da non essere un ingranaggio che gira male, ok? Girano bene gli ingranaggi e i suoi difetti li ho trovati abbastanza sorvolabili, ok? Non sono così terribili. Sì, ogni tanto c'è un po' di RNG e vabbè, giocaci attorno alla sfiga che ti viene, ok? Nel complesso l'ho trovato carino, più leggero di Civilization, partite più brevi proprio perché funziona a scenari e funziona nel complesso. Se vi piace questo tipo di gioco e la meccanica delle carte può piacervi, provatelo da tagliare un'occhiata. Costa 10 euro su Steam e è stato sviluppato dai Brainwashing Games. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!